Aumento di stipendio a Piero tra 3, 2, 1 Se anche voi volete aumentare lo stipendio di Piero Lasciate un mi piace Mettilo, mettilo, provissimo Eh, clicca, clicca, provissimo Va con il video Ciao ragazzi, mi sono contento di essere tra i ragazzi di un nuovo video Oggi siamo qui nel primo, che sarebbe il secondo Trasciando l'episodio numero 0 Comunque è il primo Della Digimops E siamo nel deserto Ci siamo tipo trasferiti Abbiamo preso tutte quante le cose che abbiamo trovato Nell'episodio 0 che trovate sul canale E niente, allora Ho trovato una piramide Tipo, c'è un'altra lassù Che è per caso? Non lo so Comunque ho trovato una piramide laggiù E c'era un po' di ferro e un po' di roba Strana Tipo la sella, ok Comunque Approfittiamo di questo villaggio Per prenderci un po' di grano Dato che potrebbe servirci per cibarci Insomma Ehm C'è un pezzo di biscotto sopra il microfono Ok, perfetto Ora non c'è più Allora Ehm Diciamo, vi ringrazio per come andato Il primo episodio perché Il tuo numero Non era il primo Era il numero 0 Poi andato abbastanza bene Quindi vi ringrazio per quanti like Avete lasciato E vi invito ora A lasciare un altro mi piace Perché Parco non dice Se vi è piaciuto quell'altro Vi piace pure questo, no? Comunque raga Occhio ai Greymon Che sono un po' suscettibili E te fanno il culo Appena le vedono Non so perché Gli rodo un po' il culo a questi Boh Comunque, comunque, comunque Si sta a fa notte Si sta facendo notte Prendiamoci le patatozze qua E tutte quante le cose belle e berlozze Che cazzo sono quei Greymon blu? Perché anche quel Metal Greymon è blu? Perché anche quel Metal Greymon è blu? Quel Greymon è arancione per fortuna Ok raga È passata la notte Già da un pochino E sto andato a cercarmi su internet Ehm Diciamo Che sono quelle cose lì Quei cerchi lì Quelle specie di sfere Allora Ho trovato che Nelle sfere Cioè durante Cioè nel mondo Possiamo trovare delle sfere In queste sfere Occhi al Metal Greymon Che c'è far culo Ehm Non ci ho visto Bella così Nelle sfere ci sono appunto delle uova Ehm Queste uova vanno schiuse Esempio questo qui è il cibo egg Che cazzo è che mi attacca? No aiuto È il cibo egg che mi attacca? Non lo so Ok Vanno schiuse tipo con dei chip E non so se ce li ho sti chip strani Virus chip Che cazzo vuole Sto pisello Rosa qua Vai via Stronzo Ti spacco la faccia Niente Adesso mi attacca Hai una forma di cappella umana Agumon pure che mi attacca Tutta una kombutta Ah forse per non farmi avvicinare all'uovo Mi attaccano Ditemi voi se sapete come farlo schiudere Questo cibo egg Intanto andiamo a controllare In quest'altra sfera Che c'è No No non mi attacca Menomale Non mi attacca sto stronzo Si mi attacca Mannaggia Teo Mi attacca ma è tutta una kombutta sto Digimon Allora Allora Andiamo qui a rompere questa sfera Vediamo un pochino che c'è dentro Vedo già della vita di qualcuno Che cos'è questo coso? Che cos'è sta roba? Questo è l'uovo ok No no Non voglio romperlo Cibo egg E questo qua? Cos'è sto coso? Non me lo fa neanche rompere Che è tipo una matrioska Che cazzo non è sto coso raga? Se rompo sotto Niente Ok ho dato un dragon chip a questo qui E se l'è preso Quindi forse il dragon chip dobbiamo prendere Andiamo a ammazzare un po' di Agumon Un po' di questa gente qua Comunque regà dovremmo fare un Un coso Una casa Perché abbiamo troppe cose Allora intanto gli faccio una cassa Qui Così Ci facciamo una cassa Perché se no perdiamo tutte le cose che ci ammazzano Ed è un po' un finger in the ass Proprio un dedino al culetto Allora Così E così Che cazzo fai ma te? Prendiamo il doppia chest E la mettiamo Così Ok E ci mettiamo tutto quanto dentro Perché se no è un casino E se perdiamo una cosa Perdiamo tutto quanto Quanto Allora Posiamo un testicolo Gigabyte Le cose varie Ci prendiamo solamente un piccone Una spada Ok Andiamo Allora andiamo a ammazzare un pochino di 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 mostriciattoli Qua di Digimon Questo qua mi piace un sacco Come l'hanno fatto raga Vimon è fatto come la seconda serie Dell'anime Perché se vi ricordate Nella prima serie C'erano tipo Agumon Tutti quanti questi qua Nella seconda Ecco ma è stato attaccato a Mortashi sua C'erano questi Questi qui Allora Prendiamoci anche il cibo Perché se no Ci schiaffeggiano la faccetta Ah Qui secondo me Non ci fa entrare Perché si è buggato il coso La sfera E qui c'è tipo stone Infatti Come avevo previsto Quindi dovremmo Di pentare qua E anche qui Dovrebbe esserci quella cosa strana Che c'è di là Vediamo un po' Uno No forse è qui Uno E due E infatti Sta anche qua Ma non so minimamente Che cosa sia L'ho spaccato Digimental of courage Che cos'è No l'ho rimesso Porca zozza Ok Forse serve a far Schiudere l'uovo Vediamo un po' No vediamo un po' Leusage Niente Recype Niente Tipo Un amuleto Uno stem Non serve a nulla Non lo so Non lo so Ciao T'ha a posto Mi stai per fare il culo Lo sai Ma voglio ammazzarti Lo stesso Porca zozza Oh ma che Si mette a 90 Per correre questo Porca zozza Non è capito proprio Niente questo Non è capito proprio Non è capito proprio Niente 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 Ora come cammina 4-4 Boom 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 Ok raga Riaccoci qua Allora abbiamo ammazzato Quel dino saprò lì L'abbiamo ammazzato Tipo un altro po' Eeeh E questo è un altro giorno di registrazione Perché ieri alla fine Mi sono messo a giocare senza Senza registrare appunto Perché Se no ci mettiamo un casino Allora sono riuscito a recuperare 12 dragon chip E speriamo Di farlo schiudere Questo Questo uovetto qua Un altro Uno Don 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 Ho appena Sbloccato L'achievement Il viaggio inizia Oh Oh Chibomon Chibomon Oh Undermatt F.A. 97 Quanto sei bello Ma ciao Sembra machinbu Machinbu di un altro colore Però Ok Ok Forse adesso serve questo No Non serve questo Cosa cazzo serve adesso Ah ora dobbiamo farlo Salire di livello Con questo Diamo gli un Bite Eccolo che sei di livello Eccolo Ora è il livello 10 Grandissimo Diamo gli megabyte Livello 15 Un gigabyte Un po' di gigabyte Livello 20 Ok andiamo Seguimi Seguimi mio pro Machinbu piccolino Blu Andiamo Stai trasporto Incredibile 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 Vieni qui Dove vai Stupido Vieni qua Dovremmo craftare Tipo un digivice Mi sembra adesso Credo Andiamo un po' Ah questo è tipo dragon Mi serve dragon Card La dragon card Come si crafta Andiamo un po' Con la blue card Che si crafta Eh che cazzo Non so come si crafta La blue card Non lo so Non lo sappiamo Non è che già ce l'abbiamo La blue card No abbiamo un courage Che il suo utilizzo è Per la Christ of courage Of courage Dove va Dove vai Vieni qui Sei buono qua Seduto Seduto Bravissimo Così Fermo là Non te muove Come senti Digivice Vediamo un po' Digi Digivice Digivice E che cazzo Serve un po' De roba Allora Black digivice Si fa con Il blue digivice Che si fa con Tre Sto a mezzo alle vai Scarpe intanto Tre Blue digizord Un lcd screen Un computer chip Un bottone Un circuit board E Quante cazze Mazze Serve un po' De roba qua Allora io intanto Allora Ditemi Che digimon è questo Perché io penso Sia appunto Quello Cioè diventa Quello Poi quello È il mostro gigante Fighissimo Non lo so però Cioè non so sicuro Solamente perché è blue Rega l'ho detto Comunque Allora Non so da quanta Che stiamo registrando Comunque Io direi Di iniziare a farci una casetta Cioè proprio di cobblestone Bruttissima Mi sarei anche Rotta tutta quanta La spada Perché Casino 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 Allora Facciamoci proprio Una bozza di casa Cioè tipo Un cubo 3x1 1.000 2.500 Tipo così Olè Olè Ci facciamo tipo Sta piccola base Cioè basta che siamo coperti Cioè Così se ci insegue Qualche digimon Riusciamo comunque a Ripararci dentro Qualche parte Insomma da qualche parte Allora Tu dopo di scena Che dopo niente Ne hai capito Allora Così così Alziamo un altro po' Vabbè Scialla Senza tetto Dai Non ti serve Il tetto Ok non hai materia Di per fare il tetto Ok posso dirvi Che non ho mai fatto Una casa così brutta Ok Ok forse è vero Non ho mai fatto Una casa così brutta Però Non lo sa nessuno Che cos'è Quel dinosauro nero Il rosso Molto strano Non lo so Non voglio neanche scoprirlo Quindi vai via adesso Vabbè intanto la portata La facciamo qua Perché se no A far giro ogni volta Mi sbatto Bohu cacchia Oh ma ce l'abbiamo Il virus Ah no Non è quel coso Quel circuito strano Che serviva Aiuto Dove lo trovo Bello Seguimi Dentro casa Vieni Vieni Michio Michio Ma che sitting Un par de coglioni Sitting Via qua Vieni qua Michio Vieni qua Vieni vieni Qua No dove cazzo vai Ma tu Sompi così le porte Grandissimo Sei più forte Neanche il legno Oh mio dio Che dementi Che siamo Che sono Vai via Spostati Oh ricordatemi Che se troviamo Tipo un nuovo virus Abbiamo anche Quello per farlo schiudere Cioè andiamo Poi in giro Con i virus A palla Allora diamogli Anche un po' Di questi qui Allora dove sei Livello 20 Diamogli un Un terabyte Al 21 Byte 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 22 Megabyte 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 24 Gigabyte 25 Figo 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 Abbiamo già Il livello 25 Se è più forte Chico Dobbiamo solamente Capire come farti Evolvere Però rimani lì Digi Evolvere Scusate Scusate Quello lì dovrebbe essere Uguale Identico Identico Cioè è lo stesso Digi Lo stesso Ok ragazzi Comunque Questo secondo Che sarebbe il primo Questo primo episodio Della Digibob Se è tutto Vi invito a lasciare un mi piace A questo video Scrivetemi qui sotto Se sapete come farlo evolvere Comunque credo che mi andrò a studiare Diciamo Il Digibob C'è come farlo evolvere No me lo andrò a studiare Ora che ho un pochino di tempo Ehm Fatemi sapere comunque qui sotto Nei commenti Se non lo trovassi Ehm E' 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 Che vi sta piacendo Che vi piaccia questo video Ehm Mi scappa tanto la cacca Voglio andare al bagno Non me ne prenderà niente Ok Ehm Da volta fare tutto Da faccia bucciosa Tutto Faccia bucciosa Cosa sta dicendo Lasciate un mi piace Iscrivetevi Non andate nel stronzo Sai al gioco Ok Fermo qua Iscrivetevi E mettete mi piace al video Perché il video è tanto bello E buon Natale a tutti Ma eh Vi ricordo che Matteo Il 25 Il 24 No forse il 24 Si Comunque il 25 Non caricherà video Ehm Forse anche il 24 Però il 26 esce il video Della One Piececraft Quello è bello Ok grazie Faccia bucciosa La matta per tutto Dovete vedere lo studio Bella